Mal di testa, mal di stomaco, lombagine, sciatica, attacca d'arcazzo, incomode e compresse effervescenti e ripartico slancio. E se ti senti stanco, tira forte, l'integratore in polvere inalante per affrontare la vita di tutti i giorni. Contro il logorio della vita moderna, attacca d'arcazzo e tira forte. Leggere attentamente le istruzioni del foglietto illustrativo può avere effetti collaterali, tenere lontano dalla portata dei bambini. Grazie.